Lo scorso 18 agosto ha fatto il vaccino. Tre giorni dopo Alessandro Cavarretta, 51enne di Mira, è morto. La procura di Venezia sta svolgendo gli accertamenti per verificare la denuncia esposta dalla famiglia ai carabinieri contro i gnoti. Cavarretta si è vaccinato con Pfizer nel punto di Oriago. Dopo qualche ora aveva già la febbre alta e il gonfiore alle gambe. È stato visitato dal medico di base che gli avrebbe prescritto un farmaco, ma il 21 agosto la situazione sarebbe precipitata. I familiari hanno spiegato che il 51enne non riusciva a svegliarsi, quindi hanno chiamato il 118. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno tentato il massaggio cardiaco, ma ormai era tardi. Al momento l'ipotesi più probabile è che il decesso sia sopraggiunto per una tromboembolia, ma saranno gli esami e l'autopsia a confermarlo. Sono diversi gli aspetti che la magistratura dovrà chiarire. Se la vaccinazione e l'anamnesi siano state effettuate correttamente, se l'uomo soffrisse di patologie pregresse e se sia stato fatto il possibile per salvarlo. L'Ulstre ha comunicato di essere disponibile a ogni collaborazione perché sia fatta chiarezza e si stringe ai familiari. Nell'interesse della campagna vaccinale in corso, comunica l'azienda sanitaria, andrà fatta ogni verifica su eventuali collegamenti tra la somministrazione del vaccino e la sintomatologia nei giorni successivi con l'esito in Fausto.